bella vecchia ramani chimigranas e siamo tornati dopo il dolore della ceretta con un nuovo video di ogni gol ci siamo siamo qui e io voglio immortalare subito e potrete andare a vedere su instagram quindi seguitaci su instagram io sono darryl11 e tu sei fatto il selfie ora si può cominciare a ragionare che diciamo in modalità partita ogni gol e ogni gol sarà rischio al gusto perché ci sono rimaste dall'ultima challenge se non l'avete vista andate a vedere andate a vedere perché uno degli ultimi fatti salla del più visto d'italia rinnegato il derby dopo quello che è stato non è di oggi che ancora deve uscire quindi non so come finirà il derby ora sono felice probabilmente non lo sarò nel momento in cui uscirà questo video però ok vabbè 3 2 1 montpellier melbourne victory ci sta ci sta e niente oggi si comincia oggi lui fa male perché appena aveva mangiato il mech vuole l'1-2 ma che cazzo di passaggio è comunque la squadra più debole viene favorita qua eh sempre così oddio provo al tiro da fuori mamma io quanto è sorto regà porco 2 ma ha preso un effetto strano cioè no è partita la zolla è partito si 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 no nooo incredibile che porterone coi ok instagram ma sali a volte esagero sali in aria porco cane mamma mia rega per male non è possibile cascato qualcosa oddio è andato ben cali fa ben cali fa ben cali fa oddio quanto corre regà quanto corre madonna mia che quanto cazzo è storto barrios partito oh mio dio mettile in mezzo sali in aria oh mio dio valeri porca valeri porca valeri l'ha visto in mezzo prolunga per l'altro l'appoggio lo stoppi e il tiro ma dovani lo che soggiorna bene oddio è partito vattene vattene mamma mia mamma mia anche anche rimessa per noi come gioca mori monreal si l'hai visto si purega si purega 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 dai che culo che culo te perché l'ho passata io cristo oddio guarda la ripresa si e ora se non lo fai d'ammazzo se non lo fai d'ammazzo se non lo fai ma il culo che cazzo di buio dai la rossa no la blu che è l'unica rimasta quindi c'ho un po' più di probabilità magari sia buona farà schifo sicuro guarda che è un'erba marcia schifo mangia mangia non c'hai mai cosa da buttare dai che è balsamico dai guarda lui che gol guardalo mamma mia che schifo buttica buttica vai fare pure andare a male mamma mia che puzza arriva un po' pure qua oddio oddio siiii oddio e dai 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 cristo santo ma almeno un tiro lo potevi fa ha fatto bene eh ho capito ma se ti proponi dopo ma io che cazzo le devo fa guarda c'è ma si e dai dai sanson 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 ma perché questo fa purega 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 il tiro mamma mia che schifo che pazzo pregio dei miei si si entra e lo fa magna magna ma che cazzo era questo ma che è? ho il giro ma che cazzo era questo madonna che merda è? ma che cazzo di gusto è? non lo so manna giù che fa bene è balsamico mamma mia che puzza la donna ma che è? c'ha presente il listerim ma l'listerim è buono il confronto ma po...ma ma'isc sii sii si come cazzo hai fatto a pialla a mezz'all'area quel secretato tu metri sti cazzi ma chi la dà? ma vaffan che... che passaggio? ce la dà? col lettone? si che cazzo? che cazzo? ma non peli e vaffan... mi ha dato la... ma vabbè... bello bello beriscia beriscia non te lo cagare beriscia non te lo... si ma l'hai superato ma come cazzo ha presa? c'è la terza gamba terza gamba e neanche lo sai guarda 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 non riesci a farlo a lungo puttale di merda tu l'hai mangiato? io no ciao io voglio vedere se ce ne restava una buona ma anche una non voglio e poi quella gialla dai hai perso? no 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 sto cazzo ha i tuoi feri che muovio proprio per te gialla 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 rossa le rossa che era? rossa dai dai è fragola rossa sei buona hai scritto quella arancione prendine una... chiudi gli occhi e le prendi vai š asfer ma questions senti l'odore si gelita sta tipo a banglatino senza cipolla qua la roba questa è la buzza di caione sa che si vuote ao con il bus sa atticus su da una boccainena sciacquate la bocca quando parli delle tutto a posto hai sciacquato Ma che scrivo Comunque ragazzi Niente questo video è finito Se vi è piaciuto lasciamo 10.000 like Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video Bella